e ora in questo momento siamo orgogliosi di presentarvi si apre al sipario mia cara signora lei cosa sa del burlesque? mi permetta di blandirla, di coccolarla, di vezzeggiarla, di conquistarla forse ballare, vestirsi, 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 vestirsi breathPP He самого dei bia sub corretta border Che cosa ne pensa? Ma, ma... Che cosa ne pensa? Mi dica, mi dica. Ma non so, io... Sì, sì, sì. No, pensavo che... Cioè, credo... Sì, sì, sì. È interessante, sa? Sì, sì, ma lo dica con parole sue. Immagino che... Mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo... Cioè, vorrei dire... Cioè, beh, dico! Sì? Qui che cos'è che insegnate esattamente? What could you see in... All alone in your room? Come, hear the music play... Life is a... Cabaret... Oh, show... So come to the... Cabaret... And that's for me... And that's for me... I made my mind up... Back in Chelsea... And that's for me... When I go... I'm going like a sea... I'm going like a sea... Life is a cabaret... Cabaret... On show... It's only a... Cabaret... On show... And I love... I'm... Cabaret... I'm... Cabaret... Cabaret... Grazie.